Allora, grazie. Le domande sono molte complesse. Devo dire la verità, alcune a mio avviso esulano ampiamente dal tema della Commissione che, per quanto ampio, ha a che vedere con le periferie. Io e la mia giunta, chiaramente oggi abbiamo portato gli assessori che pensavamo maggiormente a, vedo che l'onorevole Rampelli è andato via, quindi probabilmente non ha interesse. Ah, eccola. Probabilmente noi non toccheremo tutti i temi oggi perché alcuni assessori non sono presenti, però è evidente che faremo del nostro meglio. Se poi serviranno ulteriori approfondimenti, magari li manderemo anche, non è un problema. C'è da dire una cosa. Innanzitutto io non credo, e ve lo dico col cuore, io non credo che noi abbiamo fatto qui una illustrazione fumosa o dei massimi sistemi, o abbiamo fatto Melina. Noi siamo venuti qui a fare, questo lo metto come cappello proprio, una presentazione discorsiva di quelli che sono gli interventi che al momento sono riassunti in questi tre fascicoli, in tre faldoni, e sono molto, molto complessi e danno risposte a una prima tranche di 13 domande che c'era stata fornita. Questo per dirvi come noi non veniamo qui né a perdere tempo né a farlo perdere a voi, questo che sia chiaro. Chiaramente durante il corso dell'esposizione ci avete detto di interromperci per fare ulteriori domande che non erano comprese all'interno di queste 13, il Presidente ha chiaramente ammesso queste domande e noi rispondiamo. Ma insomma, che sia chiaro, noi siamo qui per rispondere, non stiamo perdendo tempo e pretendiamo che questo ci venga riconosciuto. Parlate di molti temi. Iniziamo a dire che, allora, sui temi specifici interverranno gli assessori, però qualche cosa va detta. Allora, legge di Roma Capitale è sufficiente? No. No, non lo è. Non lo è perché Roma Capitale, le dico, guardi, un dato che è, secondo me, indicativo. Roma Capitale ha circa 2 milioni e 900 mila residenti che pagano le tasse, diciamo tutti, diciamo in parte, ammettiamo anche tutti, pagano le tasse per una città che deve di fatto erogare servizi, se va bene, a 4 milioni, 4 milioni e mezzo di cittadini. Io rivolgo a voi questa domanda. Secondo voi, 3 milioni di cittadini possono pagare servizi per 4 milioni e mezzo? Questa è la domanda da cui nasce tutto. Perché se per voi è sufficiente, è evidente che la legge 56 è il resta valida. Noi dopo un anno di lavoro, e abbiamo cercato con l'assessore al bilancio, lo sa benissimo, di fare economie, di tagliare gli sprechi, e continueremo perché ancora qualcosa c'è da tagliare. Attenzione, senza tagliare servizi. Perché una delle prime cose che abbiamo fatto è stata, per esempio, dare più fondi alle politiche sociali, che tendenzialmente venivano sempre relegate in fondo. Quindi, sempre senza tagliare servizi. Però, più di spremere così, tra l'altro noi abbiamo una tassazione ai massimi livelli, grazie al debito, grazie alla gestione commissariale, non si può fare. E allora forse è il caso di dirsi, di guardarsi tutti negli occhi e di dire, signori, la legge 56 per Roma non va bene. Perché Roma è la capitale. A Roma ci sono i ministeri, a Roma ci sono le manifestazioni, a Roma c'è il turismo, a Roma c'è tutto. C'è tutto. Il grado di usura delle strade, che richiede investimenti straordinari per, se basta, 50 milioni di euro l'anno per i prossimi dieci anni, per rifare in via straordinaria tutte le strade, Roma non ce li ha. Ma non ce li ha, né perché oggi materialmente, comunque, anche se avessimo un debito pari a zero, un indebitamento pari a zero, cioè sarebbe difficile destinare 50 milioni di euro solamente agli investimenti sulla manutenzione stradale senza, ovviamente, andare poi a destinare altri fondi, senza andare a intaccare, scusatemi, altri fondi per altri investimenti che pure sono fondamentali. Sia perché invece noi partiamo da una situazione di meno 13 miliardi, che contribuiamo, sappiamo tutti, con 500 milioni di euro l'anno, in parte noi, in parte tutti gli italiani. Lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo ogni giorno. Ogni giorno. E lui è testimone. E lui è testimone. No, no. Quindi, chiaramente per noi quello è un dato di partenza. Quando si dice bonifiche subito, io la ringrazio, io la bonifica, la faccio anche oggi. Purtroppo, qualcosa che probabilmente non tutti sanno, è che le bonifiche straordinarie non rientrano nel contratto di servizio che Roma Capitale ha stipulato nel corso degli anni con AMA, che è la nostra azienda municipalizzata di rifiuti. Ovviamente noi stiamo intervenendo sul contratto per modificare il perimetro dei servizi. Ma che cosa significa questo? Che attualmente le bonifiche straordinarie, quindi quelle che si richiedono al di fuori del contratto, sono servizi extratari. Extratari significa che costano di più. Peraltro, il prelievo dei rifiuti e dei rifiuti combusti costa ancora di più. Allora, se io parto da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria di deficit, io la bonifica la faccio anche domani o la ordino domani. Mamma mi dice, se non mi paghi, io non ci vado. E siccome per anni noi abbiamo pagato 30 milioni, per dire, di euro l'anno ai campi Rom, io oggi non mi trovo nelle tasche un po' di soldi che magari per le bonifiche immediate sarebbero stati utili. Allora, quando mi si viene a dire l'Europa discrimina gli italiani perché decide di destinare dei fondi al superamento dei campi Rom, mi scusi, faccio un po' di politica perché ho notato che le domande non erano secche, quindi mi consenta anche di dare una spiegazione un pochino più articolata. Tra sindaco e deputato credo che il ruolo comprenda anche che si possa fare di politica. Ma non c'è dubbio, però io pensavo di più che questa commissione avesse più un ruolo tecnico, cosa sulla quale noi eravamo un po' più tagliati. Io non intendo entrare in polemica politica perché non mi interessa. E non interessa agli italiani che chiedono al Parlamento un ruolo costante di guida e di legiferazione sulle materie della vita quotidiana. Per cui, quando mi si viene a dire l'Europa discrimina gli italiani perché destina un certo numero di risorse, in questo caso i fondi europei, al superamento dei campi Rom, io mi chiedo, ma chi è che ha discriminato gli italiani quando per anni, per dieci e passa anni, Roma Capitale ha destinato 30 milioni al mantenimento dei campi Rom, sottraendoli ai servizi che potevano essere usufruiti da tutti i cittadini? L'Europa o l'ha fatto l'amministrazione e le amministrazioni precedenti? Perché la mia risposta è che l'ha fatto esattamente l'amministrazione capitolina negli anni precedenti. Da quando sono... Adesso poi gliela dirò la datazione. Ma voglio dire, cioè... Beh, da quant'è che ci sono i campi Rom? Me lo dica. Colleghiamo, lo stiamo, lasciamo finire di intervenire il sindaco. A me non sembra, a me non sembra che da quando sono stati costituiti i campi Rom ci sia stata una volontà di superarli. Ma i soldi sono sempre stati dati, quindi se oggi a me mancano dei soldi nelle tasche è perché forse quei soldi sono stati spesi male. Quando, non ricordo chi, ma adesso lo ritrovo, l'onorevole Miccoli dice che Roma negli anni 90 e 2000 cresceva a dismisura. Io vi posso dire che anche negli anni... Vabbè, cresceva, diciamo, aveva una buona crescita economica. Onorevole Miccoli, lasciamo concludere il sindaco. Ha ragione, non ha detto a dismisura, però aveva una buona crescita economica in controtendenza. Io le posso dire che anche negli anni 60, quando ci fu l'esproprio per le Olimpiadi, Roma crebbe, però quel miliardo di esproprio noi ce l'abbiamo in gestione commissariale e lo stiamo pagando oggi. Allora, mi lasci parlare perché le vostre considerazioni valgono tanto quanto le nostre. Chiederei ai deputati veramente di lasciare intervenire il sindaco perché in modo rispettoso ha lasciato... Onorevole Miccoli, non è un dialogo, bisogna fare intervenire il sindaco. Io posso anche dire una cosa, questa amministrazione poteva anche scegliere di fare come altre amministrazioni in generale hanno deciso di fare, creare ulteriore debito e finanziare opere a dismisura per far vedere che a Roma c'è gente che piccona, c'è gente che scava, ci sono le scavatrici che lavorano e per far vedere che tutto gira e scaricare tutto sulle generazioni future. Siccome noi siamo le generazioni future che stanno pagando i debiti del passato, sinceramente ci siamo guardati allo specchio e non ce la siamo sentita. Allora tutto quello che può portare ricchezza a Roma con i fondi esistenti, con i fondi privati viene fatto e viene accolto a braccia aperte. Esempio ne è la formula E. Abbiamo trovato una fantastica sinergia con la FEO, con EUR, con altri soggetti per riuscire a realizzare questo evento praticamente a costo zero per l'amministrazione che mette a disposizione i servizi, con investimenti privati che addirittura hanno una ricaduta positiva sul territorio. Vedi il rifacimento delle strade, vedi l'installazione delle colonnine elettriche, vedi l'aumento del wifi all'interno dell'area interessata. Allora questi sono eventi che portano indotto, portano, perché poi c'è anche un indotto notevole. Allora questi sono eventi sui quali noi vogliamo puntare, non su eventi che creano ulteriore debito per la città ospitante. Si veda le Olimpiadi, ma questo non lo dice Virginia Raggi che è del Movimento 5 Stelle, l'hanno detto anche altre città che si sono ritirate dalla candidatura. O allora siamo tutti vittime di un'allucinazione, oppure anche andando a vedere i risultati di Londra e i risultati più recenti di Rio, forse qualcosa è sfuggito dal controllo, ma basta vedere in casa nostra a Torino, che ci sono tantissime opere che sono costate e adesso stanno ricadendo sulle amministrazioni presenti. Quindi ricordiamoci sempre, quando li fate gli interventi, che se voi ci date i fondi necessari, noi iniziamo a fargli gli interventi, ma se partiamo da meno 13 miliardi e un debito strutturale di un miliardo e due, se non vado errato, probabilmente il quando deve essere leggermente elastico, perché dobbiamo capire le priorità. Così come anche l'assessore all'urbanistica ha deciso di intervenire su alcuni dossier che chiaramente stavano in scadenza. Sicuramente la questione stadio, che noi abbiamo cercato di accelerare il più possibile, adesso la palla è passata in campo della Regione, abbiamo di nuovo la conferenza di servizi. Sicuramente ci sono altri dossier importanti che abbiamo ereditato e che devono essere chiusi perché vengono da 12 anni. Mi riferisco ai mercati generali, mi riferisco a Piazza dei Navigatori, mi riferisco alla Fiera di Roma, ma mi riferisco a tantissimi di questi dossier importanti. Abbiamo la Commissione, o meglio, abbiamo il tema dei piani di zona, che è urgente perché c'è gente che è sfrattata, che viene sgomberata. Anzi, e quindi noi dobbiamo quantomeno tamponare quella che è una evidente... E' un po' difficile parlare così con questo chiacchiericcio, Presidente. Voglio veramente rispettare l'intervento del signo. So che sto dicendo cose scomode. Se qualcuno vuole replicare ulteriormente, può replicare. Mi rendo conto che sto dicendo cose scomode. Nel momento in cui c'è gente che perde casa, perché viene sgomberata, perché l'amministrazione non ha controllato negli anni il rispetto delle norme, noi ci siamo allarmati e abbiamo detto, dovendo scegliere prioritariamente su cosa intervenire, andiamo sulle emergenze. E questa per noi è un'emergenza. Attenzione, non che le zone O, gli articoli 11, i toponimi, non lo siano. Però la giornata è fatta di 24 ore anche per noi. Quindi dobbiamo cercare di fare le cose secondo le priorità. Tra l'altro il nuovo assessore è entrato da 4-5 mesi, per cui stiamo affrontando, abbiamo una scala di programmazione degli interventi, però direi che in 5 mesi abbiamo già iniziato a mettere le mani su una serie di dossier scottanti. Roghi tossici e terra dei fuochi. È un tema importante che chiaramente, purtroppo, non riguarda solo la zona di Roma e l'area metropolitana di Roma. Dico purtroppo perché, come sicuramente vedrete dai giornali, dai quali mi sembra che attingete a piene mani per le vostre informazioni, purtroppo l'Italia è attualmente di nuovo, come quasi ogni estate, in una situazione di gravissimo rischio incendi. Abbiamo incendi a Messina, mi sembra di aver visto stamattina, insomma in Sicilia ci sono incendi ovunque. Allora noi abbiamo fatto giusto ieri un incontro in prefettura, con il prefetto, con i vigili del fuoco, con tutte le forze dell'ordine, con la Regione, con tutti gli altri soggetti interessati, per capire come intervenire. Innanzitutto è vero che Roma Capitale si deve curare del suo verde. Non c'è dubbio, è nostra competenza. Purtroppo noi abbiamo trovato un servizio giardini, come ha riconosciuto l'onorevole Rampelli, smantellato. Smantellato perché con 180 persone operative, che forse sono scese a 160 assessore, 175, per gestire e curare 44 milioni di chilometri di verde, di metri quadri di metri quadri di verde, 160 persone, io non so con quale coraggio si possa ipotizzare che riescano a fare tutto e a tenere il pratino all'inglese. Peraltro con una situazione di gravissima carenza di mezzi, perché i magazzini sostanzialmente erano vuoti. Non era mai stato gestito l'inventario, che cosa c'è, cosa esce, chi lo prende, quando lo riporta. Quindi magazzini evidentemente aperti. E con un attacco, mi sento di dire, perché nell'arco di meno di un mese abbiamo subito 8 o 9 danneggiamenti a mezzi, anche grossi, che sostanzialmente ci ha paralizzato. Tutto questo in primavera, quando si sa che l'erba ricomincia a crescere e quindi è necessaria tagliarla. Moltissimi dei nostri consiglieri, anche municipali, ogni sabato e o ogni domenica vanno in giro per la città a sfalciare, per riuscire ad aiutare e a supportare. Lo fanno anche molti cittadini, questo lo devo ammettere. Lo fanno per supportare l'amministrazione che in primavera è stata falcidiata, quindi già avevamo 160 risorse. In più ci hanno tolto pure i mezzi, a meno di non portare le forbici da casa, era evidente che avevamo una grossissima crisi. Devo dire che a questo si aggiunge una politica, permettetemi di dire, nazionale, un po' inadatta, inadeguata dal punto di vista del turnover. perché se noi, quando mandiamo in pensione le persone, non le possiamo sostituire, se non all'X% di chi va in pensione, è evidente che noi di fatto stiamo impoverendo un'amministrazione. Considerate che nel famoso concorsone del 2010, quello bandito da Alemanno, la categoria dei giardinieri non era considerata, non era prevista, non era inclusa. E su una città verde, che è il comune verde più grande d'Europa, come Roma, questo è un insulto. È un insulto perché vuol dire che il verde deve essere continuato a gestire mediante appalti esterni, che purtroppo, Mafia Capitale, se quando sarà accertata, ci ha insegnato comunque che non venivano gestiti mediante appalti regolari, ma mediante commesse date tramite affidamento diretto alle solite cooperative. Allora, quello evidentemente era un disegno specifico per evitare di appesantire, mettiamola così, il servizio giardini e probabilmente portare il lavoro fuori. Siccome Roma offre questa immensità di verde, a nostro avviso, il servizio giardini di Roma deve essere potenziato. Quindi ci siamo, siamo riusciti a trovare 30 giardinieri dal collocamento. L'OREF ci ha appena dato parere positivo per la loro assunzione. Certo, 160 più 30 che è? Niente, ma è qualcosa. Nel frattempo li stiamo gestendo con appalti esterni da 9 milioni di euro che, ops, scusatemi, gli appalti lo sapete voi perché avete scritto il codice degli appalti, l'avete scritto voi, non noi. Purtroppo durano qualche mese, quindi quando noi ci siamo insediati abbiamo cercato i soldi perché lo sapete, prima di bandire un appalto quantomeno bisogna cercare i soldi perché io non posso dire affido il servizio che costerà X, non si può fare. Abbiamo cercato i soldi, abbiamo bandito le gare e abbiamo adesso due appalti per il verde orizzontale e il verde verticale da 9 milioni di euro in tutto e in più abbiamo messo a gara ed è stata giudicata la manutenzione di almeno 80 mila alberature, ne abbiamo 330 mila, di almeno 80 mila alberature per la verifica, la verifica della stabilità. Noi stiamo facendo il massimo con l'assenza di risorse che abbiamo e con l'assenza di personale che purtroppo abbiamo ereditato. Allora, per esempio, se a livello parlamentare si volesse aiutare le amministrazioni locali si potrebbe ipotizzare una rivisitazione della normativa sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Ci stiamo sbrigando ad assumere il più possibile i vincitori del concorsone che vanno peraltro a sopperire a carenze strutturali dell'amministrazione come per esempio quelle nel dipartimento urbanistica. Cioè, noi abbiamo delle situazioni di incaglio permettetemi il termine a tecnico perché qui non siamo in ambito economico ma di incaglio dovute all'assenza di personale e quindi tramite i tecnici noi stiamo andando a rinforzare quei comparti perché siamo riusciti a trovare qualche tecnico nel concorsone ma se ci sbloccate le procedure di assunzione e di turnover probabilmente riusciremo a fare meglio meglio e di più e a rispondere ai bisogni di una città che è stata impantanata per anni. Ancora il tema dei migranti è fondamentale come sapete però non è un tema del comune non è un tema di livello comunale il comune ora poi lo affrontiamo per quanto i migranti vedo che fanno parte delle vostre competenze però è evidente che noi non possiamo essere gli interlocutori unici di questo tema ma il tema dei migranti è un tema nazionale peraltro visto che anche noi ci informiamo sui giornali abbiamo appena visto che sostanzialmente alcuni politici hanno raccontato di come nel corso degli anni precedenti sia stato detto all'Europa non vi preoccupate e facciamo che tutte le persone che vengono recuperate in mare le portate in Italia e le gestiamo noi e oggi quella politica scellerata ci sta portando in Italia persone che non siamo in grado di gestire con tempestività perché io non dico che non siamo in grado di gestirle in assoluto ma con tempestività perché le commissioni che devono esaminare i migranti invece di metterci due o tre mesi come dovrebbe essere ci mettono anni quindi noi abbiamo sul nostro territorio una presenza di individui peraltro talvolta neanche identificati che è estremamente elevata allora cosa devono fare i sindaci? i sindaci in qualche modo devono aiutare quantomeno le persone più fragili a trovare una collocazione io da gennaio ho chiesto al prefetto Morcone sulla base di dati che mi sono stati e forniti sulla base di dati ufficiali che mi sono stati forniti dalle prefetture di bloccare le quote su Roma perché se noi parliamo di quote e non parliamo di persone non ci rendiamo conto che mentre la quota a livello ufficiale probabilmente è ancora più bassa del previsto nel frattempo però il numero di persone che in teoria non rientrano nella quota di Roma rientrano nella quota di altre città ma vengono a Roma esiste e noi dobbiamo farci carico anche di quelle persone che non è che perché non hanno il cartellino in testa di quota non sono persone sono persone come sono persone e come e quindi io che cosa chiedo e che cosa chiede questa amministrazione soprattutto o meglio ancora di più alla luce del traffico che è stato messo in luce dall'inchiesta del traffico che veniva fatto sui migranti perché i migranti rendono più della droga così è stato detto abbiamo detto noi non vogliamo replicare quel modello la legge ci dà la possibilità di chiedere fondi al ministero però ci dice questi fondi devono essere gestiti in maniera regolare quindi con gli appalti codice degli appalti che avete emanato voi e che avete peraltro corretto con un correttivo quest'anno che ci ha imposto peraltro lo stop e il rallentamento di alcune procedure per riadeguarle alle nuove norme quindi con allungamento dei tempi fatecele gestire come chiede la legge e con i fondi esistenti se poi l'Europa ci volesse dare anche di più noi chiaramente non ci tireremmo indietro questo è evidente quindi per fare le cose regolari vanno fatte bene perché se noi continuiamo a immettere persone su Roma abbiamo fatto dei bandi mi sembra per il reperimento di immobili alcuni sono andati deserti sono andati deserti dove le mettiamo queste persone anche noi chiaramente siamo assolutamente contrari a come dire agli assembramenti spontanei ora ce l'abbiamo a Tiburtina ma per evitare quello dobbiamo dare un luogo alternativo però attenzione il tema dei migranti sul quale io sono particolarmente attenta e la nostra amministrazione è particolarmente attenta o la affrontiamo a livello nazionale e a livello europeo oppure tutte le misure che potranno mettere in campo i sindaci con estrema difficoltà perché poi anche reperire immobili per i migranti non è facile perché i privati non te li danno gli immobili attenzione non è che basta schioccare le dita daremi gli immobili e si trovano i privati non te li danno nella realtà dei fatti quando si esce dal Parlamento e si va a vedere come funziona la città realmente allora o l'Europa e l'Italia quindi il governo ci aiuta oppure noi questa situazione così la risolviamo con estrema difficoltà ancora quindi roghi tossici abbiamo fatto un tavolo in prefettura con tutti questi soggetti per capire che cosa perché eravamo partiti da lì e poi sono passata a parlare del verde a capire come potessimo prevenire innanzitutto innanzitutto all'interno di Roma esistono aree verdi molto estese dal parco del Pineto che è centrale al parco dell'Appia Antica a invece zone più periferiche il parco di Veio il parco dell'Insugherata che non sono di competenza udite udite del comune di Roma ma sono di competenza della regione dei vari enti Roma Natura o altro che devono provvedere alla loro gestione quindi io lì paradossalmente non posso neanche andare a tagliare un filo d'erba perché non è mia competenza e allora o ci mettiamo tutti congiuntamente a fare il nostro lavoro oppure non se ne esce no? e io questo ho chiesto ho chiesto a tutti di fare il loro lavoro ho chiesto un presidio rafforzato a tutte le forze dell'ordine per presidiare i campi Rom perché mi potrà essere detto che le telecamere non sono sufficienti non c'è dubbio ma è un inizio adesso in variazione che sarà approvata entro il 31 luglio giusto ieri abbiamo l'abbiamo rivista complessivamente c'è una prima tranche da 500.000 euro per l'installazione di telecamere nei municipi dovrebbero essere circa 10-15 a municipio e che vorremmo iniziare a mettere all'interno quantomeno dei municipi più critici intorno alle aree dei campi Rom e degli insediamenti abusivi chiaramente stiamo intervenendo anche sugli insediamenti abusivi ma non vi immaginate che sugli insediamenti abusivi ci possa essere una soluzione definitiva perché come dice giustamente il comandante della polizia loro vanno sgomberano magari si tolgono queste persone vanno via da quel posto ma diciamoci la verità la notte successiva si accampano in un altro luogo perché sono persone che devono comunque dormire allora o la risposta gliela dà l'Italia e l'Europa perché questi insediamenti abusivi per la maggior parte di volte sono fatti da migranti dà una risposta seria oppure noi sì per carità gli insediamenti abusivi li togliamo ma poi tornano quindi noi dobbiamo fare un discorso serio non un discorso politico nel quale qualcuno ci viene a dire qui che noi siamo venuti a fare melina melina niente melina proprio niente noi siamo qui molto arrabbiati abbiamo fatto un calcolo e l'abbiamo rifatto il calcolo per l'agenda Roma per capire quanto servirebbe a Roma per riuscire a rimettere in moto tutto e parliamo di un miliardo e ottocento milioni di euro l'anno di fondi extra che non riesce a produrre Roma Capitale che ha già una tassazione al massimo ce li date perché siamo la capitale o non ce li date ci volete dare dei poteri speciali perché siamo la capitale o ci dobbiamo ogni volta interfacciare con 877 istituzioni oggi noi stiamo cercando di amministrare al meglio e senza creare ulteriore debito e senza creare ulteriore debito e questo oggi qualcuno dirà eh però potevi fare le olimpiadi ma i nostri figli forse ci ringrazieranno stiamo cercando di amministrare al meglio quello che abbiamo e che purtroppo alcune amministrazioni precedenti che sono riusciti a fare una crescita in controtendenza fantastico negli anni 90 e 2000 ci hanno scaricato sulle spalle i debiti ci hanno scaricato sulle spalle desertificazione commerciale nelle periferie è vero peccato che a fronte della desertificazione commerciale spuntano come funghi i grandi centri commerciali e il comune di Roma da questo punto di vista a meno che non ci siano dei vincoli urbanistici che lo impediscono non è che può dire no tu lì non costruisci probabilmente ci vorrebbe una politica più lungimirante a livello centrale probabilmente io mi direi questo perché altrimenti non se ne esce se arriva il grande privato e dice quell'area edificabile quell'area commerciale io ci voglio fare il centro commerciale io non ho strumenti per dire no lì non lo voglio perché a livello di PRG quel tipo di esercizio lo può sostenere e non basta la mia politica dire ok mettiamo mano e diamo fondi ai mercati rionali per farli rinascere 4 milioni per adesso abbiamo trovato sono pochi? sì però per quest'anno l'anno prossimo ce ne saranno altri quest'anno è quasi finito sono 6 mesi non basta questo purtroppo serve una politica centrale che dica noi dobbiamo iniziare a proteggere le nostre botteghe commerciali le nostre botteghe artigiane i nostri commercianti i nostri piccoli negozianti che cosa possiamo fare a livello normativo per aiutare i sindaci e magari scoraggiare un po' le multinazionali che vengono a mettere sti casermoni se voi lo fate noi vi diamo qualche indicazione ve la diamo perché ne abbiamo bisogno come il pane sta a concludere è onorevole Picio sta onorevole no intervenite dopo intervenite dopo allora non è mai successo non è mai successo che non è mai successo sì però non è mai accaduto che noi abbiamo interrotto un ospite della commissione poi interverrà Micoli poi interverrà e questo per quanto riguarda una premessa di ordine generale poi se vogliamo parlare di rifiuti io credo lo avete chiesto in più persone quindi immagino che la risposta possa essere unica per tutti potrà intervenire benissimo l'assessore Montanari quando vogliamo parlare di PRG può intervenire benissimo l'assessore Montuori se vogliamo parlare di ROM può intervenire benissimo l'avvocato Montini se vogliamo parlare roghi tossici io questo vi ho detto c'ero io in presenza quindi posso dirvi io per quanto riguarda Castel di Guido in teoria non è un tema delle periferie ma se vuole intervenire l'assessore Montanari è liberissima di farlo Colleferro anche qui la scelta su Colleferro non è un tema di questa commissione c'è una idonea commissione che è la commissione ecoambiente scusi mi permetto non è se vogliono intervenire se sono state fatte domande specifiche sono qui per rispondere devono dare risposte non esiste se si vuole intervenire non interverranno però su temi come ama salaria cosa intendete fare Colleferro qual è la vostra politica sui rifiuti voi qui siete su su periferie noi su questo rispondiamo sì perfettamente onorevole Piso poi interverrà dopo finiamo finiamo l'esposizione poi interverrà dopo finiamo l'esposizione poi interverrà perché una cosa vabbè allora si riscaldi e poi si raffreddi Piso onorevole Piso guardi qui nessuno prende in giro nessuno non interloquisca con i deputati onorevole Piso onorevole Piso onorevole Piso per favore guardi anche Colleferro è in periferia però vede il punto è però il punto è vede non mi serve che mi spiega il perché perché lei ha il diritto di chiedere quello che vuole chiaramente noi qui interveniamo sul tema delle periferie quindi se l'assessore Montanari vuole fare una disquisizione più ampia parlando non solo di quello che è il nostro programma dei rifiuti sulle periferie ma vuole andare un po' più nel dettaglio su quello che è il piano industriale di Ama può farlo però mi scusi lei giustamente dice lei deve intervenire lei interviene come deve sui temi della commissione il piano industriale di Ama lei non è collega Piso collega Piso no mi scusi se vuole intervenire sull'ordine dei lavori chiede la parola sull'ordine dei lavori però a fronte di un intervento che il sindaco di Roma ha incentrato ha incentrato su una serie di richiami anche giustissimi al Parlamento state intervenendo sull'ordine dei lavori onorevole Piso si sto intervenendo sto intervenendo sull'ordine dei lavori e mi scuso per la conciliazione del mio intervento però ribadisco se il sindaco anche giustamente ha posto l'attenzione rispetto alla città di Roma a interventi ad hoc del Parlamento perché è chiaro che il problema della capitale d'Italia non può essere demandato esclusivamente sulle spalle dell'ente locale e che c'è necessità di un intervento intergovernativo se vogliamo che la capitale d'Italia diventi veramente trainante come tutte le altre capitali europee rispetto al PIL rispetto a una serie di situazioni sulle quali adesso non voglio entrare non mi si può poi venire a dire che le domande che noi stiamo ponendo che sono domande che riguardano la città di Roma che riguardano la periferia di questa città sono domande non pertinenti perché è una cosa inaccettabile mi scusi Ora lasciamo concludere il sindaco e poi facciamo intervigli assessori grazie io ho preciso il mio pensiero se noi qui siamo per parlare di Roma tutto è pertinente ma visto che questa è una commissione sulle periferie chiedere dettagli sul piano industriale AMA e sul piano industriale ATAC purtroppo a mio avviso non è ma guardi glielo dico molto onestamente a mio avviso a mio avviso non è pertinente ma lo deciderà il Presidente peraltro poi concludo solamente per rassicurarvi sul fatto perché è stato è stato è stato scusatemi toccato il tema di un articolo di questa mattina secondo il quale ATAC avrebbe circa 2000 esuberi è intervenuta ATAC stessa a smentire questa bufala dicendo che la notizia è destituita di ogni fondamento è intervenuta questa mattina alle 10 e mezza quindi lo dico semplicemente per sgomberare per togliere uno dei temi all'attuale discussione allora io penso che se vogliamo iniziare a parlare di rifiuti un pochino più approfonditamente visto che poi sarebbe stato il tema dell'assessore Montanari posso cedere tranquillamente la parola a lei grazie grazie